Amici, buongiorno, vi sto girando questo video dal mio bel mare di Livorno, sono venuto a Livorno espressamente, esclusivamente per fare quello che è un mio diritto esternale, cioè la mia volontà di sottoscrivere il referendum, ero un po' indeciso devo dire, ma ho avuto la spinta finale, ho avuto l'input da quello che è stato secondo me il miglior spot elettorale con l'invito a sottoscrivere il referendum e sapete chi lo ha promosso? Lo ha promosso Berlusconi e i suoi ministri, tutto l'esecutivo si sono espressi in televisione con l'invito a non votare dicendo noi non andiamo a votare, allora siccome una cosa che può andare bene a Berlusconi sicuramente non potrà mai andare bene all'Italia e agli italiani, se va bene a lui non va bene a me, allora lui dice di non andare e io sono andato e come tanti altri, migliaia, migliaia e milioni, grazie Berlusconi, continua così, auf Wiedersehen!